Qualificazione all'Eurocup, sorteggiati i gironi Piccardo per l'Ortigia, percorso insidioso ma poteva andare peggio. Questa mattina l'Alene ha effettuato il sorteggio per la composizione dei gironi nel secondo turno di qualificazione di Eurocup 2022-2023. La squadra di Piccardo, che si è qualificata da prima classificata dopo aver vinto il girona del primo turno a punteggio pieno, è stata inserita nel gruppo F, che si disputerà a Bucarest in Romania dal 27 al 30 ottobre. I bianco-verdi dovranno giocarsi il passaggio del turno con i romeni e padroni di casa dell'Osteao a Bucarest, con i portoghesi del Vittoria Gimaeres, con gli ungheresi del BVSC Zuglo e con i servi del VK Valis. Cinque squadre in lotta per le prime due posizioni che valgono la qualificazione agli ottavi di finale. Un girone non complicatissimo, ma insidioso, con due formazioni che provengono dai gironi di qualificazione dell'Eurocup e due che invece sono retroscesse dalla Champions. Lo Zuglo e il Valis sono passati rispettivamente come terzo nel gruppo D, in cui c'era anche il Trieste, e quarto del gruppo B, lo stesso del Trelimar, nel primo turno di Eurocup. L'Osteao a Bucarest e il Vittoria Gimaeres, invece, provengono dal secondo turno della Champions League, in cui si sono piazzate l'ultimo posto rispettivamente nel gruppo A e nel gruppo B. L'Osteao, peraltro, è allenato dall'ex attaccante dell'Ortigia Bogdan Arrat e ha nel suo organico l'ex centro-boa bianco-verde Filip Klikovac. Andiamo a casa dell'Osteao, che ha investito molto e ha preso giocatori interessanti, commenta Stefano Piccardo. Lì ritroviamo Filip e anche una vecchia conoscenza dell'Ortigia, come Bogdan Arrat. Poi ci sono gli ingresi, che sono un'ottima squadra, dalla lunga tradizione. Quindi i serbi del Valis, oltre alla formazione porteghese, che sinceramente mi sembra quella meno attrezzata. Insomma, poteva andare peggio, ma poteva anche andare meglio. Inoltre siamo finiti nel raccoltamento da cinque squadre, quindi avremo un giorno in più di gare e dovremo partire prima. Sarà un girone insedioso. Ad ogni modo la Coppa insegna che o prima o dopo devi giocarle tutte. Quindi noi andremo a Bucharest con l'obiettivo di passare il turno.